La misurazione dei fenomeni economici ha una grande tradizione, ha una grande estensione, ma ci sono sempre nuove cose da misurare, nuove tentativi di miglioramento. In questa sessione cerchiamo di raccontare alcuni nuovi sviluppi. Si parte da una relazione di un esperto della Banca d'Italia che ci dà un'idea di come nuove fonti, in particolare che vengono dai social media e da altre nuove fonti di dati informali, possono servire per avere informazioni molto rapide su come va l'economia, sul ciclo economico. La seconda relazione di un esperto dell'Istat riguarda invece grandi sviluppi che sono in continuazione in corso presso l'Istat, sull'integrazione fra grandi basi dati, l'integrazione che noi definiamo dei registri statistici, come l'informazione sulle imprese e sugli individui si riesce a integrare e a valorizzarla. La terza relazione di un esperto del Ministero dell'Economia ci racconta le nuove basi dati che derivano dalla fatturazione elettronica, un insieme di informazioni estremamente potente, di grandissima estensione e granularità che piano piano si sta cominciando ad esplorare e che ha sicuramente potenzialità di enorme portata. Infine l'ultima relazione di un altro esperto dell'Istat ci racconta che cosa si sta facendo in ambito internazionale nella misurazione dei conti nazionali per portare dentro ai conti nazionali nuovi fenomeni o nuove misure di fenomeni vecchi come per esempio l'economia informale o il lavoro domestico.